Quando si arriva sul punto della morte e cacciamo a passare tutti, ricchi e poveri, l'unica cosa che ha fatto il signore buono fisichista, morato dalla favola, vengono tutti i pensieri dalla testa, perché effettivamente uno vuole ragionare con il suo cervello, non con il cervello, diciamo, di un'altra persona, per creare casino, perché effettivamente la vita è bella. Qua sapi, la vita. Non sono i soldi che ti fanno felice, un cristiano. E' come si chiama, il rispetto, l'amicizia, con ognuno di noi siamo a fare uno contro l'altro. Siccome effettivamente l'umanità è cretina, babba, scimonita, e succedono tutte queste cose che effettivamente... Io, lo dico chiaro, arrivato ad una certa età uno, non che si stanca, si stufa, perché è giovane e uno se ne fotte. Da quando c'è il suo paradiso, e ringrazio a Mananno Sareggio, che mi disse che tu hai la tranquillità e serenità, mi vedi questi flash e questi pensati, perché me l'ha detto lui durante il percorso sull'ampeto, che magari oggi c'era, domani c'è, mi raccontava che effettivamente tutte queste cose. voglio dire effettivamente che i sordi non vanno alla felicità del cristiano, sono essenziali per campare. Ognuno che vi controllate la vostra salute, che state bene, che la migliore ricchezza è la salute, non so i sordi. Certo a certe volte per sordi va ammazzata e vesciarriata. Se dice la vita, stino i piedi fino a Calettotene. Per dire, diciamo, d'accordo con qualcuno, magari che aveva sordi, in questo momento cadderà, i sordi di avoli sono, la manichia avoli. Ok, a prescindere che è meglio solo che me l'ho accompagnato. Perché uno, vedo, c'è un'avere manco della salute a certe volte.